giorno 1 del viaggio migratorio di Fabione Paratici però dato che di notizie non se ne hanno speriamo quantomeno che stia bene è giusto comunque parlare di altro perché nonostante Paratici sia a Londra per cercare di piazzare qualche colpo comunque qualche voce di mercato per quanto riguarda i nomi in entrata ovviamente continuano ad esserci io come sempre per rimanere aggiornati sull'avventura di Fabione in terra londinese vi invito a scaricare OneFootball così o in modo tale da avere un'idea chiara di ciò che sta accadendo e piacerebbe saperlo un pochino a tutti in realtà però appunto dato che le notizie le stiamo aspettando un pochino a tutti nomi in entrata nomi in entrata sempre per quanto riguarda sta benedetta prima punta che tanto come avrete letto anche dal titolo al momento pare che la priorità per l'attacco per la prima punta quanto meno secondo Andrea Pirlo e più che altro è ciò che riportano eh non dico sia così però riportano e io ririporto pare essere quella di Edin Zeko no perché Milico che è all'accordo con la Juventus però evidentemente non convince più di tanto non convince come magari avrebbe convinto Maurizio Sarri e io guardate non so più neanche che idea farmi per quanto riguarda la prima punta perché c'è veramente dopo tocchi sempre gli stessi punti magari ci sono quelli un pochino più giovani come potrebbe essere Milik e dici sì va bene ha 26 anni però gli sono partiti due crociati o magari generalmente non piace e quindi dici vabbè dobbiamo prendere proprio lui poi si parla di nomi diciamo no sulla trentina come poteva essere Cavani che era stato accostato così per dire tra l'altro 10 milioni all'anno per tre stagioni al Benfica sticazzi ci aggiungo poi per esempio Raul Imenes, Zapata, Zeko che per carità sono bravi perché sono bravi senza ombra di dubbio sono bravi Raul Imenes in questa stagione ha fatto più di 30 reti in stagione Duvan Zapata e Zeko comunque a grandi linee li conosciamo sicuramente non si possono reputare giocatori scarsi ci mancherebbe altro però stando per esempio nel contesto EdinZeko dato che è proprio recente la notizia della priorità su EdinZeko EdinZeko piano A da quello che riportano EdinZeko il preferito di Pirlo si ragazzi ma sto qui cioè se non sbaglio mi sa che è anche più vecchio di Higuain cioè Higuain se non sbaglio è dell'87 e di Inzeko è dell'86 e di Marzo 86 ha 34 anni e mezzo e bene o male ha uno stipendio simile a quello di Higuain se lo devi mettere in una trattativa per acquistarlo cioè te comunque presumibilmente almeno non è che puoi dargli neanche la metà dello stipendio tocca bene o male dare una cifra che si aggira attorno a quella lì poi nell'ultimo periodo soprattutto dopo la sconfitta la sconfitta l'uscita dalla Champions contro il Lione si parla di ringiovanimento della Rosa fondamentalmente da quel momento in poi è stato mandato via a zero di comune accordo ma tui di che per esempio già solamente tre centrocampisti oltre a Bentancur era quello che pigliava di meno cioè nel senso con tutti i rompi maroni che ci sono lì in mezzo ma è un altro discorso questo tu è giusto che ti liberi di Gonzalo Higuain per n motivi soprattutto perché poi prende 7 milioni e mezzo di stipendio ma se non sbaglio Zecco prende uguale ed è un anno più vecchio e se fai un accordo con la Roma poi con il giocatore io faccio fatica a pensare che lui possa passare da 7 milioni e mezzo a 3 a 4 perché ho anche il contratto con la Roma voglio dire se proprio devo prendere di meno va bene giocherei nella Juventus ma onestamente sti cazzi quindi mezzo Zecco ragazzi non mi convince non dico che non sia bravo perché è un bravissimo giocatore e nessuno mette in dubbio quelle che sono le capacità del giocatore però la stanno menando con lo sfoltimento del montingaggi il ringiovanimento della rosa prendi uno che diventerebbe tre più vecchi in rosa e uno di quelli che guadagnerebbe di più poi oh se fosse Benzema dico a 32 anni guarda e Benzema non è un problema e Suarez va bene per un paio di stagioni si sta parlando di lui Suarez cioè va bene ringiovanire però se non ringiovanisci con Benzema o Suarez io un occhio lo posso chiudere poi mi pare che Benzema veramente abbia così 32 anni un paio di stagioni penso te le possa fare alla Karim Benzema ma sono esempi così buttati lì buttati a caso invece se mi devo prendere un Edinzeco che arriva che ha 35 anni in sostanza e non è Cristiano Ronaldo chiusa parentesi insomma anche no dai fatemi magari voi sapere qui sotto la vostra con un commento io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare fino alla fine forza Juve chiusa parentesi chiusa parentesi chiusa parentesi Grazie a tutti